Assessore Cassini, Sanremo si prepara per due grandi manifestazioni, il GF Sanremo Junior, sono previste circa 2000 persone in città, quindi bene così. È un bel evento sicuramente che conferma il suo valore. Cominciamo subito con Sanremo Junior, da 18 paesi tanti giovani talenti. Questo ci fa piacere, è un onore averli con noi. Credo che sia un onore anche per loro esibirsi con la nostra orchestra sinfonica molto prestigiosa, quindi siamo davvero contenti di riceverli. E poi si continua con il GF, la rassegna della creatività nella scuola. Di nuovo tanti paesi del mondo, tante culture che si incontrano. Saranno anche giorni di grande vivacità, perché questi giovani gireranno per Sanremo e la coloreranno. Quindi davvero un piacere. Che impatto a livello turistico può avere con così tanti paesi presenti in città? Sicuramente un impatto immediato, perché le presenze, come ha detto questa mattina l'organizzatore, il Cavaliero Alberti, sono di tutto rispetto. 2000 persone attese. E poi indubbiamente, non dimentichiamo, non sottovalutiamo l'elemento importante della promozione a livello di immagine. Qui sono persone, tante persone che arrivano da tanti posti del mondo, anche lontani, che hanno come punto di riferimento Sanremo, la sua musica e il suo grande valore dal punto di vista appunto della tradizione e della storia musicale. Quindi anche da questo punto di vista Sanremo si afferma non solo come città della musica, ma anche come meta turistica.